Nova Monte è strategica per il futuro dell'Italia, non solo per la propria capacità di fare una ricerca di altissima innovazione e profondamente legata ai territori, alle loro peculiarità e ai loro bisogni, ma anche per la propria capacità di mettere in produzione industriale molto rapidamente prodotti che possono cambiare in positivo il livello di qualità del nostro ambiente e dei nostri territori. La collaborazione fra Coldiretti Nova Monte è una collaborazione di lunga data, ormai quasi 15 anni fa abbiamo iniziato e non si è mai trattato di un semplice rapporto fra fornitore e cliente di prodotto agricolo, a tal punto che oggi noi siamo completamente integrati nel percorso della bioraffineria a monte e a valle della bioraffineria stessa. A monte ovviamente perché forniamo i prodotti agricoli che la bioraffineria lavora e li forniamo attraverso contratti che hanno una durata pluriennale e che garantiscono un reddito minimo ai nostri agricoltori, questo è un elemento per noi fondamentale, ma oggi abbiamo una collaborazione importante anche a valle della bioraffineria e quindi da un lato l'utilizzo di prodotti come i teli biodegradabili per la pacciamatura in agricoltura, abbiamo poi anche sviluppato una collaborazione importante, stiamo testando i biolubrificanti con grandissimo successo nelle macchine agricole dei nostri agricoltori attraverso la rete dei consorzi agrari, abbiamo iniziato ad utilizzare nei nostri allevamenti i panel ad alto contenuto proteico per l'alimentazione dei nostri animali e poi stiamo iniziando a testare con grandissima curiosità e con grandissimi risultati positivi anche la frontiera dell'acido pelargonico e quindi sia i derivati dell'acido pelargonico per quanto riguarda le alternative agli antibiotici per gli animali e sia la grande frontiera degli erbicidi biodegradabili, noi abbiamo necessità di andare oltre il glifosate che ha problemi sia per l'ambiente sia di possibile cancerogenicità e quindi guardiamo con grandissima attenzione alle prospettive che ci possono derivare dall'acido pelargonico. E' un grandissimo percorso quello di Novamont, una grande collaborazione che noi stiamo raccontando anche i cittadini nell'ultimo villaggio Coldiretti che si è chiuso a Roma tra il 5 e il 7 di ottobre scorso e abbiamo incontrato oltre 1 milione e 200 mila cittadini che hanno potuto conoscere anche i frutti di questa collaborazione.